Come sapete la Creabox è una delle società emergenti di maggior spicco non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Questa sera avremo modo anche di vedere delle esibizioni a partire proprio con i più giovani, piccolissimi, un'età che varia tra i 9 e i 10 anni che fanno parte della categoria sparring io e quindi invito subito i primi due futuri campioni ad avvicinarsi ai rispettivi angoli. All'angolo rosso per la società Ivankoboxi di Chieti il giovanissimo Andrea Tocco. Eccolo che si avvicina, prolungato l'applauso. All'angolo blu, gioiellino della Creabox, Rosario Difonso. Accompagnato dal suo maestro Davide Luneo. Chiaramente per quanto riguarda gli sparring io, in questo caso avremo due round da un minuto ciascuno. Signori, lo spettacolo ha inizio. Buon divertimento e buona visione. Fuori i secondi. Dai, Rosario, vai! Grazie. Grazie. Camillo Scaglioni per la LS. Fuori i secondi. Dai, a tre. Grazie. 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 Come nel precedente incontro, anche in questo caso, la distanza è di due round da un minuto ciascuno. Fuori i secondi. E' tutto, alza la guardia, non ti scoprire, vai vai vai, si veloce, vai, vai vai vai, si veloce, vai veloce, veloce. Dai, nasce tutto, vai vai vai, si veloce, vai, va bene, si veloce, ande. Vai, la re, si veloce. Vai, dai Lollo. Vai, vai, si veloce. Dai. Vai, 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 si veloce. Dai, dai Lollo. Vai, si veloce. Oh no. Dai, da re. E non ti scoprire. Vai, 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 si veloce. Vai, 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 esce niente. Dai, 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 esce niente. Vai, adesso devi vedere tutto. Vai, 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 adesso. Va bene, va bene, va bene. Vai, adesso. Adesso, tutto, dai, dai, vai. Bravissimo. Grande. Applausi ai più debilitati, soprattutto per questo bel gesto sportivo dell'abbraccio tra i due contendenti. Il campioncino Niccolò Falcone e il giovanissimo Lorenzo Zappacosta. Grande, la re. Diamo comunicazione del vertetto ufficiale. Vittoria ai punti per Angolo Rosso, Niccolò Falcone, che si conferma ancora una volta. Ancora un grande abbraccio con il suo amico Lorenzo. Vi vado a abbracciare anche il maestro di me. E la stretta di mano all'arne, però. Bravi ragazzi, avete già i primi rodimenti con la pepare del cucinato. Al centro del rig sale il nostro presidente regionale di Assisi Tax International, Leo Di Pietro, per consegnare la coppa al vincitore. E l'altro contendente, eccoli qua. Venite ragazzi. Questa per Niccolò e quest'altra per Lorenzo. Ancora un grande applauso. L'indicazione da parte dell'arbitro Patrizio Di Marzio. Fuori i secondi. Diamo inizio alla prima ripresa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa. Grazie a tutti. 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 Seconda ripresa. Grazie a tutti. 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 fuori in secondi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 bravo. a tutti. a tutti. bravo. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. per la a tutti. 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 a tutti.